C'abbiamo fatta C'è il castello imperiale? Ci vuole un botto di materiale Spero che non sia la prossima cosa che dobbiamo costruire Una casa per tutti Bando 1 Biff Costruisce un pacco nella taverna La taverna? E dov'è la taverna? C'è il centro di comando Dove lo dobbiamo fare? Qui? Ah Quindi devo togliere anche i macchinari E che ne sapeva ragazzi Faccia andare al centro di comando Grazie 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 ok 21 fasi raga non mi basteranno mai questi materiali chi non gioca a fortnite lego raga non sa cosa si perde a parte che io sono tra le prime a dire che gli avrei dato due lire invece poi mi ci sono appassionata nonostante a me i lego non facciano impazzire appassionato i lego è il mio ragazzo non è mio ma a dettagli allora scusate raga io mi devo fare un attimo un grill perché devo mettere su da mangiare perché qui c'è questa roba allora cerchiamo un bel grill e un bel banco da creazione perfetto poi cerchiamo a fare la pappa al massimo ne faccio un'altra qui mi libero anche un po' l'inventario perfetto ok qui ho qualche tessuto e la cosa mi piace niente dovrei restituire qui i tessuti i campi al poverino che gliel'ho buttato giù esatto anche voi comunque dovrei lasciare così per liberare un po' l'inventario ah posso fare altri campi perfetto allora facciamo così per liberarci sperando che non mi piada di fare altro io faccio qui alzio dei campi uno due e tre ecco sicuramente quello che sto facendo mi richiederà del plastioide e questa è fortuna che io ne ho preso veramente parecchio la prima non finisco i materiali va davanti tra poco li finiamo sicuro questo dovrebbe essere il quartier generale non è male che non avevo preso tanto raga che non manco c'è pasta guardate come vuol dire guardate come vuol dire legno non credevo ne lasciare indire mi pare di no prima questo questo legno che è cresciuto baggatissimo in mezzo alla mia costruzione perfetto continuiamo allora non credo che mi basterà mai nella vita però Ok. Allora, quanti ce ne vanno? Allora, quanti ce ne vanno? Allora, quanti ce ne vanno? Scusate, se mi fate passare... Scusate, se mi fate passare... Allora... Allora... Facciamo il problema... Non mi interessa che vi sbosco... Ma... Non ho bisogno... Allora... Allora... Proviamo a vedere fino a dove riusciamo ad arrivare... Allora... Intanto lascio a fare le altre... Ma io cerco di completare qui... Anche se... Non credo che ci servirà per finirlo... Allora... 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 troppo lontano ok Perfetto. Bomba 1-bit e si esce un palco nella caverna della Montposto Ribelle. Ok, dopo quello che ho visto, me ne vado, è meglio. Livello di confort del villaggio, cosa ci manca? Non mi pare il caso, tipo sui cartelli imperiali. Grazie. 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 Non manca molto. e l'abbiamo potenziato al massimo grazie a tutti